Ma che bella giornata ho trascorso con te Savino, bello, mua, 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 è vero? Sì. Ah, Savino, oggi ho comprato un uovo di adorante, lo sai? Davvero? Sì, devi sapere che su delle istruzioni c'era scritto, rimuovi il tappo e schiaccialo dietro. E te l'hai schiacciata? Sì, è vero che riesco a camminare malapena, ma quando scorreggio esce un profumo, bellissimo. Vuoi sentire? Sì. Eh, che ne dici? Che bello. Sì? Ancora, ancora. Ancora. Wow. Wow. Wow.